Molti dicono che fare una collaborazione su YouTube può aiutare a far crescere il tuo canale. Ma esattamente cos'è una collaborazione e come si dovrebbe fare? In questo video ti spiego come e perché dovresti creare la tua prima collaborazione su YouTube e quali sono i quattro tipi di collaborazione più comuni. Se stai cercando di realizzare la tua prima collaborazione, scrivilo nei commenti. Scrivi che tipo di YouTuber cerchi e che tipo di collaborazione proponi. Magari proprio grazie a questo video troverai e realizzerai la collaborazione dei tuoi sogni. Collaborare con un altro YouTuber può aiutare a far crescere il tuo canale perché il pubblico dello YouTuber con cui collabori viene a conoscenza del tuo canale e può iniziare a seguirti. Collaborare ti permette di mettere i tuoi contenuti di fronte agli occhi di nuove persone, i follower dell'altro YouTuber, velocemente senza aspettare che YouTube trovi nuovo pubblico per te. Ecco perché tutti cercano qualcuno con cui collaborare. Ovviamente per funzionare bene la collaborazione deve essere reciproca. Non può esserci un vantaggio solo per te, ma anche per l'altro YouTuber che a sua volta verrà conosciuto dal tuo pubblico. Solo così la collaborazione sarà fruttosa, entrambe le parti saranno soddisfatte e si porranno le basi per nuove collaborazioni future. A questo punto però potrebbero sorgerti delle domande. Ad esempio come scegliere e come contattare uno YouTuber per una collaborazione? E come si dovrebbe realizzare questa collaborazione? Che forma dovrebbe avere? Ora vediamo una per una le risposte a queste domande. Innanzitutto devi scegliere con chi ti piacerebbe collaborare, però attenzione, non scegliere uno YouTuber qualsiasi che ti piace o uno YouTuber con tanti iscritti. Se questi sono i criteri su cui basi la collaborazione, ti dico già che fallirà miseramente. Il criterio con cui scegliere con chi collaborare deve essere uno solo, YouTuber che abbiano un pubblico simile al tuo, ovvero tendenzialmente YouTuber del tuo settore. Il perché è presto detto e te lo spiego con un esempio. Se io, che ho un canale che parla di YouTube, collaborassi con un canale di cucina, anche molto grande, non ci guadagnerei nulla. Perché i follower appassionati di cucina non sarebbero nella maggior parte dei casi appassionati di YouTube, quindi non inizierebbero comunque a seguirmi. Alcuni di voi mi scrivono ogni tanto nei commenti, Sara vuoi collaborare con me? Io non do seguito a queste richieste, non vi offendete, non è nulla di personale, ma il problema è che se parlate di un argomento diverso dal mio, non sarebbe vantaggioso per nessuno dei due collaborare. Quindi il primo step è trovare YouTuber del tuo settore. Magari già li conosci, già li segui e sarebbe il caso migliore perché magari sai già anche chi ti piace di più. Se non li conosci ancora, devi cercarli su YouTube. Prova a inserire le parole chiave principali del tuo settore nella barra di ricerca. Ad esempio se hai un canale di yoga, potresti cercare lezioni di yoga, saluto al sole, pratica yoga, come eseguire la posizione della montagna o cose simili. Oppure potresti inserire alcuni titoli di video che hai realizzato per vedere chi altro ha realizzato video simili. Comincia a notare quanti canali più o meno appaiono nei risultati di ricerca. Potrebbero essere tantissimi canali diversi o pochi canali in base alla competitività del tuo settore. Se sono tanti, puoi cominciare a fare una prima scrematura in base al numero di iscritti. Lo vedi direttamente vicino al nome del canale, non è neanche necessario che apri il canale o il video. Solitamente le collaborazioni si fanno con canali di dimensioni simili al tuo. Non contattare canali troppo grandi potrebbero non risponderti o non essere interessati perché non sarebbe vantaggioso per loro apparire davanti agli occhi delle poche persone che ti seguono. Allo stesso tempo non contattare canali troppo più piccoli del tuo canale, non sarebbe vantaggioso per te per lo stesso motivo. Seleziona 5-10 canali di dimensioni e argomento simili al tuo e poi no, non contattarli ancora, guarda i loro video. Mi raccomando non contattare uno youtuber alla cieca senza aver mai visto un suo video. Potresti ritrovarti a parlare con persone che non sono affini a te, che ti stanno antipatiche o che hanno un approccio che non condividi alla vostra materia. Invece guardando un po' di loro video ti rendi conto se sono competenti, se usano un linguaggio che ti piace, se sono persone che ti piacerebbe conoscere nella vita reale. Una volta appurato che ti piace quello che fanno su youtube puoi contattarli. I metodi per contattare uno youtuber sono tendenzialmente due. O lasci un commento sotto un loro video ma non te lo consiglio, oppure usi il metodo più serio che è quello di scrivergli una mail. Quasi tutti gli youtuber mettono a disposizione la loro mail nella sezione informazioni del canale. Se lo youtuber che ti interessa non ha inserito la sua mail in questa sezione, ti direi di passare direttamente al prossimo della lista. Probabilmente non è interessato a questo tipo di proposte. Vediamo ora che cosa scriverai all'interno di questa mail. Innanzitutto ovviamente ti devi presentare in poche righe e lasciare il link al tuo canale e non dare mai per scontato che tutti ti conoscano. Poi spiega il motivo per cui hai scelto di contattare questo youtuber facendo degli apprezzamenti sul suo lavoro e sui suoi video che ovviamente avrai visto. E poi racconta che ti piacerebbe collaborare per creare una sinergia e per portare contenuti interessanti ai vostri utenti. Qui però c'è una cosa importante da dire. Arriva preparato e inserisci nella mail una proposta precisa di collaborazione. Non scrivere una cosa generica del tipo Mi piacerebbe collaborare con te, che ne dici? Prova a pensare a questa persona che magari non ti conosce neanche, riceve una mail inaspettata, magari in una giornata di lavoro incasinatissima e deve anche farsi venire un'idea su come collaborare con te. C'è il rischio serio che non ti risponda o che lasci la mail in stand by per poi dimenticarsela. Invece se fai già una proposta che magari stuzzica la sua curiosità, a cui deve solo dire sì o no, è più facile che ti risponda. Se ti mancano idee per la tua proposta, ecco una serie di tipologie di collaborazione che puoi proporre. Una prima proposta potrebbe essere quella di creare due video, uno da pubblicare sul suo canale, uno da pubblicare sul tuo canale. Tu ad esempio puoi proporre di realizzare un video che pensi possa piacere al suo pubblico. E lui potrebbe realizzare un video da pubblicare sul tuo canale, magari chiedigli di parlare di qualcosa su cui lui è più ferrato di te. Oppure può essere realizzato un solo video. Questa è una proposta più soft, più leggera e più lusinghiera nei confronti della persona che contatti. In questo caso infatti è buona educazione chiedere al tuo collaboratore di realizzare un video o partecipare a un video che sarà poi pubblicato sul tuo canale. In questo modo c'è il massimo vantaggio per lui che avrà tutta la visibilità del tuo pubblico. Il vantaggio per te è quello di avere un contenuto interessante per il tuo pubblico, che magari potrebbe racimolare un bel po' di visualizzazioni e comunque creerete un rapporto con cui si potrà realizzare qualcosa in futuro. Magari sarà poi lui stesso a chiederti di partecipare ad un video sul suo canale per ricambiare il favore. Se invece la tua proposta fosse il contrario, ovvero se proponi di partecipare a un video sul suo canale, sembra che ti stai autoinvitando a casa sua per sfruttare la sua popolarità e farti vedere dal suo pubblico. Sarebbe veramente il modo di iniziare con il piede sbagliato questa collaborazione. Con la proposta di un video per il tuo canale potresti pensare di far realizzare completamente un video al tuo collaboratore che poi ti invierà e tu lo pubblicherai, oppure potresti fare qualcosa insieme, ad esempio un'intervista in diretta o anche registrata. In questo secondo caso magari tu gli invii le domande che intendi fargli e lui registrerà solo le risposte che poi monterai insieme alle tue domande. È la modalità che ho utilizzato ad esempio sul mio canale tante volte per intervistare commercialisti, avvocati e anche il mio video editor Lucas Comparin. Se invece i vostri impegni si incastrano facilmente potete organizzare una diretta in cui lo intervisti live. Se stai ricevendo spunti interessanti lasciami un like per farmelo sapere, noi procediamo con altre idee. Questa terza modalità di collaborazione è veramente semplice, senza impegno. Può essere un buon modo per cominciare a conoscere una persona per poi magari decidere di collaborare in maniera più seria e complessa in futuro. Consiste nello scambiarsi una menzione sul community tab, quella sezione del tuo canale su cui puoi anche segnalare canali o video altrui. Si può dunque usare un post sul community tab per segnalare la visione di un video sul canale di un tuo competitor per farlo cliccare dai tuoi follower. Se vuoi fare bella figura puoi menzionare una o più volte spontaneamente la persona con cui intendi collaborare sul tuo community tab, anche prima di chiedergli una collaborazione per mostrargli che c'è veramente stima nei suoi confronti. Le collaborazioni possono anche essere numerose. Puoi invitare tanti youtuber a partecipare a un video corale sul tuo canale, ad esempio per festeggiare un traguardo raggiunto, un compleanno del canale, oppure se ti viene in mente una bella idea. Ad esempio sul mio canale di giochi da tavolo ho invitato quasi tutti gli youtuber di questo settore e sono più di 20 a partecipare a un unico video che ho pubblicato sul mio canale in cui ciascuno rivela il proprio gioco preferito. Ho chiesto semplicemente in cambio di condividere questo video sui profili social di ciascuno. In questo caso ho contattato anche canali molto più piccoli del mio. Il vantaggio in termini di visibilità di fronte al loro pubblico per me era minimo, ma il grande vantaggio è stato quello di creare un video molto visualizzato sul mio canale, praticamente da tutti gli appassionati di giochi da tavolo. Guarda subito questi video per prendere spunto su come può essere realizzata una collaborazione e preparati a realizzare la tua. Alla prossima!